Dopo un anno di lavoro dedicato alla connessione fra innovazione, imprese, cultura e turismo, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro ospita Innovation Road Show. L'appuntamento è il 12 luglio al Teatro Sperimentale con un evento in cui esperti e rappresentanti istituzionali condivideranno le loro conoscenze sull'uso dell'innovazione digitale, su asset come turismo e cultura e su come le tecnologie emergenti stiano trasformando questi settori. Si parlerà di adattamento delle istituzioni culturali, tecniche di coinvolgimento nelle città intelligenti, miglioramento dell'esperienza turistica e strumenti di supporto per start-up e imprese culturali. Fra gli ospiti anche il Vice Ministro alle imprese Made in Italy, Valentino Valentini. La tappa di Pesaro dell'Innovation Road Show fa parte del Tour Nazionale dell'Innovazione che prevede nel corso dell'anno sette momenti di confronto nelle diverse città italiane che ospitano le case delle tecnologie emergenti. Quella del 12 luglio sarà dunque un'occasione di sviluppo potenziata dal confronto con i referenti delle altre 12 CTE italiane, ovvero Torino, Bari, L'Aquila, Prato, Roma, Napoli, Campobasso, Taranto, Cagliari, Bologna, Genova e Matera. Sarà un momento anche una rendicontazione di tutto il lavoro che è stato fatto in questo anno dove ci sarà la partecipazione anche di tutte le case delle tecnologie d'Italia e sarà un momento anche di confronto e fondamentale per far capire che cosa è stato fatto con questa casa delle tecnologie emergenti. Per me è quindi fondamentale far capire al cittadino, parliamo tanto di stransizione digitale, far capire ai cittadini quale sia il percorso giusto per rimanere al passo con l'innovazione e la tecnologia. Perché nessuno deve rimanere indietro, quindi io mi auguro che la politica da adesso in poi faccia tutto un lavoro per coinvolgere il più possibile le imprese. Come ho già detto in conferenza stampa, sono circa 70 le imprese del nostro territorio che stanno partecipando alla piattaforma digitale della CTS Square. Quindi non è un progetto o un lavoro astratto, è un qualcosa di concreto che si sta formando, poi con il laboratorio che abbiamo anche al terzo piano del Palazzo Mamiani, ci consente di poter riuscire ad aiutare e indirizzare le imprese in tutto ciò che è il nuovo e la tecnologia.